bentornati oggi voglio farvi vedere come è stata realizzata questa foto still life di una canon 5d mark 2 è stata scattata con una sorellina più recente la 700d con il suo 50 mm stiamo ovviamente lavorando su un treppiede con la testa sfera se andiamo a vedere le impostazioni di scatto stiamo lavorando a due secondi f10 iso 100 abbiamo il focus manuale abbiamo ovviamente la modalità manuale e abbiamo impostato per il comando remoto il canon rc6 per gestire lo scatto senza dover toccare la camera che se no si muoverebbe stiamo lavorando con la nostra bellissima eos 700d con il 50 in 1 e 4 per questo genere di cose rende veramente veramente molto bene ora andremo a illuminare la nostra scena con questa luce led la cosa interessante è che andremo a usare il light painting ovvero andremo a pennellare illuminando di volta in volta un singolo lato per ogni scatto fino a quando non avremo compiuto diciamo tutto il perimetro del nostro soggetto in questo modo siamo sicuri di avere gli highlights in tutte le zone in cui vorremmo poi tirarli fuori e possiamo lavorare su diverse foto per andare a prendere i dettagli che di volta in volta ci sembreranno più opportuni come vedete ho già individuato le foto scattate oggi all'interno della memory card e le ho aperte in camera raw ora io sono uno dei più grandi fan del mondo di lightroom e infatti ce l'ho qui però mi sto rendendo conto nel corso degli anni di una cosa lightroom è molto utile se vuoi archiviare le tue immagini e tenerle sull'hard disk o su cloud per sempre nel caso tu stia facendo uno shooting come in questo caso in cui sai che probabilmente terrai la foto definitiva ma non ti servono tutti i raw io non le apro nemmeno più in lightroom perché diventa più lungo mi copia i file invece le apro direttamente con camera raw così rimangono sulla memory card e quando ho finito quando sono soddisfatto posso buttare via i miei raw e mi tengo l'originale in psd mi tengo il progetto originale così sono a posto allora come vedete qui abbiamo tutte le foto scattate durante la sessione per cui cominciamo dalla prima quello che facciamo è la solita cosa standard ovvero vado ad applicare il mio user preset sharpening 2 di cui sono sempre molto contento e che vi lascio in descrizione se volete scaricarvelo gratuitamente dopodiché vado a selezionare tutte le immagini e lo applico a tutte questo preset va a migliorare la nitidezza e a diminuire di pochissimo il rumore ho messo un set di riduzione di rumore in questo caso non serve però lo lascio comunque perché comunque un po di rumore c'è sempre soprattutto quando scattiamo con un sensore apsc ora andiamo a fare un rapidissimo controllo sulle immagini nel senso che attiviamo i warning sul clipping perché voglio essere sicuro che nelle immagini che andremo a esportare non ci siano dei clipping indesiderati per esempio qui ce n'è un pochino sulle ombre io potrei non volerlo se si riesce a recuperare senza ovviamente perché io dopo quello che farò è che andrò a pennellare soprattutto sulle alte luci quindi quello che voglio è avere le immagini sempre più pulite possibile con la maggiore quantità di dettagli possibile qui ci sono delle alte luci un po troppo sparate per esempio io invece le voglio recuperare bene questa probabilmente non la tocco neanche perché sembra già praticamente perfetta così infatti forse sarà la mia foto di partenza una di queste due potrebbe essere la foto di partenza abbiamo applicato il preset su tutti quanti anche perché c'è la correzione della lente dentro in quel preset quindi fondamentalmente nel momento in cui andiamo ad applicarla applichiamo la stessa correzione lente che io di solito uso perché la correzione lente di adobe secondo me è molto buona fa un ottimo lavoro nell'eliminare quel poco di distorsione che ogni tanto c'è e quel poco di vignettatura che ogni tanto c'è e che non sempre vogliamo però va applicato a tutti ovviamente perché se la applico ad alcune foto ad altre no poi non combaciano quando vado a impilarle una sopra l'altra vediamo che anche qui vado ad abbassare un po le altre luci a recuperare un po di ombre qui ne ho fatta una dello sfondo perché non si sa mai tanto poi non la uso io lo sfondo lo voglio nero e lo so già però l'ho fatta lo stesso meglio farle subito e poi non usarle perché se non le abbiamo fatte ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va e bisogna rifarle tutte perché nel recuperare la memory card abbiamo mosso abbiamo potenzialmente mosso la camera con cui stiamo scattando se non è ben fissa se il nostro cavalletto non è estremamente di qualità pesante eccetera quindi se le abbiamo mosse e ci accorgiamo che c'è qualcosa che non andava bene è tutto da rifare ok una volta che abbiamo applicato i nostri preset e le nostre modifiche su tutte e siamo soddisfatti magnifico ci ritroviamo qui all'interno di photoshop a questo punto andiamo a scegliere un'immagine io l'ho già scelta e la apriamo andiamo a prenderne una che sia già con l'esposizione abbastanza vicina a quella che vogliamo in modo che le modifiche che andremo a fare siano meno possibile ovviamente perché per quanto possiamo starci divertendo e vi assicuro che è così noi vogliamo metterci meno tempo possibile per fare i nostri lavori perché insomma abbiamo anche altre cose da fare nella vita giusto allora ne scegliamo una poi andiamo a prendere le altre e tenendo premuto shift così dovrebbero allinearsi automaticamente andiamo a posizionarle all'interno del nostro quadro ora ci metterà un pochino a posizionarle perché va a metterle dentro come oggetti avanzati noi non ce ne frega niente di avere gli oggetti avanzati infatti li rasterizzeremo immediatamente così il documento pesa di meno però al momento vedete che li sta sbattendo dentro tutti come oggetti avanzati che è giusto è un'opzione che io lascio perché normalmente la voglio mi serve non ho voglia di andare a toglierla ogni volta che faccio un lavoro di questo tipo in questo caso non mi serve che siano oggetti avanzati perché non applicherò filtri di nessun tipo e non andrò assolutamente a ridimensionarle quindi non mi serve a niente che siano degli oggetti avanzati che pesano molto di più rispetto a dei file rasterizzati quindi appena avrò finito di importarle tutte qui forse sta preparando una delle ultime appena avrò finito di prepararle tutte la prima cosa che vado a fare è dirgli che non voglio questi oggetti avanzati vediamo che forse manca poco qui possiamo vedere nel navigator che abbiamo già la visualizzazione di quella che potrebbe essere l'inquadratura finale perché non ho particolare velleità di andarla a cambiare magari si può giusto rifilarla un pochino ma io non sono un grandissimo fan del crop quindi non credo che andrà così ok ha finito io vado a selezionarle tutte faccio tasto destro e rasterizza ora per sicurezza già che le ho selezionate tutte io seleziono l'intero quadro con lo strumento sposta selezionato e allineo ai centri orizzontali e verticali perché non si sa mai se mi era sfuggito shift prima poi risultano disallineate allora adesso andiamo a tenere premuto option e selezioniamo soltanto la prima e adesso siamo pronti ad andare ad aggiungere le altre in cima in che modo aggiungiamo le altre in cima? semplicemente andiamo ad aprirne una attiviamo la maschera di livello la nascondiamo poi di volta in volta andiamo a rivedere che dettagli ci sono in questa immagine perché dobbiamo capire come miscelarle per esempio in questo caso io credo che prenderemo un bel pennello ne troppo grande ne troppo piccolo andremo a lavorare con un flusso di 20 poi poi vediamo vediamo come rende un pennello bianco opacità 100% andiamo a rivedere qui che cosa c'è in questa immagine e noi potremmo volere per esempio recuperare un po' di dettagli qui dentro qui ho illuminato apposta cos'altro potremmo voler recuperare? potremmo voler recuperare il bagliore qui sull'obiettivo per esempio cos'altro c'è? potremmo sicuramente volere un pochino di quel di quel bagliore potremmo volere un pochino di questo bagliore e così vedete che pian piano la andiamo a illuminare un po' meglio tutta quanta potremmo sicuramente volere l'area qui sotto che non era illuminata perfettamente potremmo voler togliere un pochino di quest'ombra però da quell'angolazione forse era più buio tutto perché l'angolazione della luce era diversa quindi niente la cercheremo in un'altra immagine potremmo voler aggiungere un po' di bagliore qui ma mi sa che lo facciamo in un'altra vediamo la successiva successiva qui abbiamo sicuramente degli highlights qua che prima non avevamo allora stessa cosa apriamo la maschera andiamo a pennellare qui in modo da recuperare è veramente tanto eh qui qui già vedo me stesso nel futuro a giocare con l'opacità di questo livello per diminuirla perché è veramente tanto anzi mettiamo metodo diffusione screen così non introduco altre variabili legate alle ombre e poi lo tengo basso basso perché qui ecco perché sennò è troppo allora cos'altro possiamo recuperare da qua possiamo recuperare un po' di bagliore qui magari possiamo recuperare qui il microfono lo recuperiamo più avanti però andiamo alla prossima no questa qui era lo sfondo non la uso a qui questo è sempre divertente possiamo recuperare qualcosa intorno all'otturatore ok vediamo cos'altro c'è magari qualcosa qua forse neanche magari un po' di bagliore qui dentro questo che non mi dispiace questo che non mi dispiace e forse basta andiamo alla prossima allora qui potremmo scegliere di recuperare questo ma forse è sapete che forse è troppo intenso non sono sicuro di volerlo infatti secondo me è troppo è troppo sparato magari se lo teniamo basso basso ecco giusto per dargli tic quel colpettino di luce lì ma non lo voglio troppo evidente perché secondo me spara anche troppo qui che cosa abbiamo qui abbiamo forse qualche dettaglio in più allora qui sicuramente possiamo magari recuperare qualche dettaglio ma non sono sicuro che sia migliorativo però e quando non si è sicuri nel dubbio è meglio è quasi sempre meglio non metterlo perché se dobbiamo mettere una cosa che non ci convince infatti mi sa che lo lasciamo così non vado a mettere granché da questo livello qui che cosa abbiamo qui abbiamo un bagliore simpatico qua però non sono sicuro anche qui non sono sicuro che sia tanto migliorativo una cosa che potrebbe interessarmi è recuperare questa luce qua qui che cosa abbiamo qui possiamo recuperare questa parte andiamo a vedere se si può recuperare un pochino questa parte sì direi che ci sta io mi ricordo mi ricordo di aver fatto una foto in cui si vedeva un bagliore del microfono molto meglio di così ma qual era? qual era? era questa ecco così illuminiamo un po' meglio vediamo se ce ne erano delle altre forse siamo a posto così e qua invece ne abbiamo una su cui praticamente la camera è illuminata da dietro e questa a me interessa soprattutto per lo sfondo e mi piacerebbe che lo sfondo fosse così molto tranquillo e molto scuro già di partenza ovviamente devo andare poi a rimuovere dalla maschera le zone su cui ho già lavorato prima non dovrebbe essere un grosso problema perché è sufficiente dare una rapidissima pennellata qui dentro lo sfondo più o meno è simile quindi non ci sono grossi problemi io vado a pennellare qui dentro potrei recuperare questa zona di highlight qui sopra però che non mi dispiaceva ora che la sto cancellando mi rendo conto che non era male adesso io posso andare a lavorare solo sulla maschera mi rendo conto che forse avrei dovuto mettere il flusso a 100 da subito vado a lavorare sulla maschera mi libero di tutta questa parte faccio proprio sparire subito perché non la voglio anzi io ingrandisco pure il pennello perché vi ricordo che il nostro obiettivo qui è divertirsi ma anche metterci poco non vogliamo stare tutto il giorno a pennellare questa camera giusto torniamo a vedere la nostra immagine e vediamo che lo sfondo è molto migliorato qui si può andare a rifinire meglio ovviamente però adesso quello che io vorrei fare è tornare con flusso a 20 e vedere se qui c'è qualcosa che mi interessa perché a me questo bagliore qua non dispiace e quindi adesso mi picciolisco un po' il pennello e vedo di tirarlo fuori perché sì 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 questo mi interessa vediamo se c'è qualcos'altro che mi interessa anche questo ecco qua a me questo interessa magari anche questo sì 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 tengo tutto anche questa sezione non mi dispiace ecco che abbiamo recuperato e magari anche qualcosina va sì 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 ecco fatto e anche questo ok qui poi bisogna giocarsela bene per capire come gestire la transizione tra questi due ma direi che una cosa del G sì ecco va benissimo ok capite bene ovviamente che una foto del genere scattando con tutte le luci contemporaneamente non darebbe lo stesso risultato perché avremo le luci che si mangiano le ombre tra di loro e non è quello che vogliamo noi vogliamo avere nella maggior parte dei casi vogliamo avere una situazione dove riusciamo a gestire solo le luci lasciando le ombre di sfondo così come sono ora l'ultima cosa da fare è andare ovviamente qui a ripulire queste imprecisioni questo pelo del mio gatto dallo sfondo e cose del genere e siamo passati da un'immagine di questo tipo che era un singolo scatto siamo passati a questa andremo poi a rimuovere la riga dello sfondo e cose del genere a dare un'ulteriore pulita però questo già vi fa rendere conto di quello che siamo riusciti a fare sommando più scatti diversi dello stesso soggetto ok dopo due accorgimenti finali vedo sostanzialmente abbiamo dato una pulita globale eccoci qui e questa è l'immagine fondamentalmente finita qui ci sono un paio di imperfezioni dovuti al fatto che ovviamente una 5D Mark II non è nuovissima quindi ci sono un paio di ferite che ha ricevuto durante la sua vita non ho reputato di toglierle appunto perché questa non è una camera nuova quindi non volevo dare l'idea di una camera fiammante quanto di una cosa un pochino più vissuta inoltre dobbiamo anche fare i conti col fatto che comunque le nostre immagini al 99% dei casi vengono visualizzate unicamente da smartphone se io avessi intenzione di stamparla probabilmente andrei a rifinirla un po' meglio anche nei dettagli ma dal momento che probabilmente verrà visualizzata su dei display molto piccoli e nemmeno con un livello di attenzione particolarmente alto secondo me sempre per una questione di tempo non è assolutamente il caso che io vada a editare questi piccoli difetti per cui diciamo che questa è la foto finita grazie